Ciao, sono Jill Cooper e voglio aiutarti a cambiare vita. Buongiorno a tutti quanti, siamo tornati in un nuovo webinar, podcast, dipende, webinar se lo volete guardare, podcast se lo volete solo ascoltare. Oggi parleremo non solo del nostro microbioma, la microbiota, ma parleremo di Mela Slim, uno dei miei integratori più amati per il motivo che non passa per il problema del sistema cardiovascolare o circolatorio. aiuta il microbiota. Andremo a capire che cos'è, perché tanti parlano di questo microbioma, ho cominciato io a lavorarci nel 2015 se non sbaglio, nel 2016, l'ho scritto già nel mio libro il metodo nel lontano 2018 che è stato pubblicato con Sperling & Koofer sulla microbiota e devo dire che è il nostro secondo cervello. Ma perché è il secondo cervello? Non è già, è il secondo cervello e va bene, però ti spiegherò il perché. Allora, innanzitutto parliamo delle brain-gut axis, l'asso tra microbiota o tra le viscere e il nostro cervello, perché abbiamo lo stesso numero di neuroni che vivono nel nostro viscere, abbiamo lo stesso numero di neuroni. Come succede? Sistema nervoso centrale, cervello, midollo spinale, questo è il nostro sistema nervoso centrale, i neuroni nel cervello li conosciamo e poi abbiamo il sistema nervoso interico, intestino e sistema immunitario. Quando noi siamo creati proprio nel ventre di nostra mamma, noi abbiamo questi due sistemi nervosi che vengono creati con neuroni, ok, un neurone che sta lì, che fa parte del sistema nervoso e si dialogano come attraverso il nervo vago, nervo vago che vaga per tutto il corpo ed è il nervo più lungo dei nervi cranici e vaga e va a interagire con il nostro microbioma, che è il microcosmo dentro il nostro corpo. Il microbioma che cos'è? Sono delle cellule viventi che non fanno parte del nostro corpo, non sono cellule del nostro corpo, il nostro corpo è l'ospite del nostro microbioma, però il microbioma, noi non possiamo vivere senza di loro e loro non possono vivere senza di noi, ok? Ci sono diversi esempi nella natura, per esempio l'anemone, il pesce pagliaccio che ci vivono insieme e poi ci sono dei uccelli che stanno sui rinoceronti, ci sono di questi, diciamo, organismi che coesistono perché per esempio l'anemone non punge il pesce pagliaccio, che però il pesce pagliaccio attrae cibo verso l'anemone che mangia magari altri esseri e dall'altra parte il nostro pesce pagliaccio è protetto dall'anemone nel mare. Invece nel nostro microbioma abbiamo questo microbiota che è molto, cioè sono monocellule, questi probiotici e organismi viventi e sono migliaia di migliaia di migliaia, decine di migliaia di diversi ceppi che vivono nel nostro microbioma in un ambiente anaerobico perché non c'è ossigeno nel nostro ventre e aiutano a produrre non solo una sorta di clima proattivo del nostro, diciamo, digestione, ma aiutano anche a proteggere la parete intestinale e aiutano anche a produrre vitamine per il corpo e serotonina. Il primo simposio del microbiome risale al 2013, considerando la scienza è stato, diciamo, portato in auge da poco tempo, da poco tempo perché prima si è considerato che tutto le viscere, l'intestino era semplicemente per evacuare, era una sorta di spazzino del corpo, passava per evacuare una sorta di pattumiere, se vogliamo dire, per il corpo. Invece si è visto che probabilmente il microbioma è una delle parti più, più importanti, non solo per questo access, brain gut access, neuroni, neuroni, che dialogano, ma perché dialogano? Dialogano per risposto immunitario, perché abbiamo 70% del GALT, gastro-associated lymphatic tissue, che risiede nella viscere, perché lungo questo tubo digerente il nostro corpo deve decidere che cosa fare entrare nel sistema circolatorio o dentro il corpo, che deve stare fuori dal corpo, perché il tubo digerente praticamente è al di fuori del nostro corpo, non sta dentro il nostro corpo, lo vedremo fra poco insieme. Controllo l'infiammazione del corpo, questo è molto importante in microbioma, così noi non vogliamo mai essere infiammati, vogliamo avere sempre un pH basico, vogliamo essere in equilibrio, né iper né ipo, a produzione di neurotrasmettatori, perché la serotoninina ci porta al rest and digest, che ci aiuta ad attivare il metabolismo e ridurre la fame nervoso, ci aiuta ovviamente il metabolismo e produzione di vitamine, ok? Ma questo tubo digerente di che cosa si parla? Si parla della bocca, esofago, stomaco, duodeno, intestino tenue, istantino cieco, appendice, intestino crasso o colon. Questo è il nostro tubo digerente, ma è al di fuori del corpo, ok? E noi ingeriamo dalla mattina alla sera tantissimi patogeni. Noi non ingeriamo soltanto proteine, carboidrati, grassi, sali minerari, vitamine, quale che ci serve, no? Noi siamo bombardati in ogni momento di microbi intorno a noi, ma noi abbiamo microbiome nella pelle, scusami, nelle viscere, microbiome sulla pelle, microbiome nel naso, ci abbiamo microbiome della bocca, ci abbiamo tantissimi organismi ospiti che ci aiutano come barriera a contrabbattere contro questi attacchi, attacchi biologici proprio. Noi, il nostro sistema immunitario, quando tu sei giovane, se tu sei un genitore di un neonato o neo scuole elementari, ok? Noterai che tuo figlio torna ogni tre giorni con un'altra malattia, cioè lo ospidisci e torna con il naso che cole, lo ospidisci e torna con la febbre, lo ospidisci e torna con una malattia esemmantica piena di bolle, perché il nostro sistema immunitario è che si sta imparando a gestirci e proteggerci, ok? Una volta che abbiamo un bel sistema immunitario, abbiamo una prima linea di fase che ci aiuta e per questo è dove entra Mela Slim. Allora, Mela Slim è uno dei miei integratori più potenti in assoluto per quanto riguarda la nostra forma fisica, per diversi motivi, perché non passa per il sistema cardiovascolare, cioè non è che tu, quando prendi Mela Slim dici, rischio di sentire tachicardia, rischio di sentirmi troppo agitata. No, perché Mela Slim agisce sulle viscere, proprio sul microbioma. Il nostro Mela Slim è titolato a 50% di florenzina, la florenzina è la parte attiva della Mela e i claims ministeriali sono regolarità del transito intestinale, modulazione e limitazione dell'assorbimento dei nutrienti. Adesso vi spiego il perché. Precazioni, il consumo di succo di mela può ridurre l'assorbimento di alcuni farmaci come la fexofedanina. Durante cure a base di questo farmaco, dunque, è bene evitare di bere succo di mele anche lontano dall'assunzione del farmaco. Così, se io sono, cioè, dobbiamo sempre ricordare che, comunque, i fitoterapici sono molto potenti, aiutano tantissimo, ma possono anche avere, in certi casi, delle limitazioni. In questo caso, il fexofedanina. Ma Mela Slim è consigliato per chi ha il metabolismo lento, chi è in menopausa, chi ha balzi glicemici, gonfiore della pancia e per chi soffre di nervosismo. Perché si è visto che quando noi riusciamo a ridurre la risposta nervosa del sistema parassimpatico attraverso le microbiome che limita il modo dell'assorbimento dei nutrienti, voglio andare avanti per capire questa cosa, noi riduciamo l'infiammazione nel corpo. Allora, il nostro intestino è come questa zona qua, ok? Si chiama tight juncture. Tight juncture è una giuntura stretta, ok? Noi abbiamo l'intestino che fa così, cioè molto, molto contorto, no? Fa tutti questi suoi movimenti. Poi abbiamo i vili intestinali, sui vili intestinali ci sono altri vili. Tutti questi vili intestinali sono, diciamo, circondati da sentinelle del nostro sistema immunitario. 70% dei nostri sentinelle nel sistema immunitario attraverso quei neuroni che dialogano con il cervello, il secondo cervello, attraverso il nervo vago, vengono controllati a livello viscerale per decidere che cosa entra nel nostro corpo. E affinché c'è un tight juncture, cioè è molto stretta la giuntura tra questi vili intestinali, passa soltanto quelle che servono, cioè proteine, nutrienti, sali minerali, tutto quello che potrebbe nutrire il corpo. Ma che cosa è il problema? Oggi come oggi abbiamo troppo stress. Lo stress innesca un sistema di risposta che si chiama fight or flight, lotti o fuggi, che porta costantemente il sangue verso le nostre muscoli, verso l'apparato visivo uditivo per lottare, essere alerte, essere pronto per lottare o fuggire, al discalpito di che cosa? Il famoso tubo digerente. Quando io sto lottando, fuggendo, non sto digerendo. Il nostro corpo ne dice, aspetta, mi metto un angolino a riparare il corpo mentre sto scappando a gamba levata da un leone con i denti a sciavola, anche se non esisteva come animale, però per intenderci perché e come funziona il nostro corpo. Il nostro corpo sta sempre per tenerci in vita, un istinto di sopravvivenza e il nostro corpo ha un sistema di valori di dove applicare la sua energia. Infatti, quando state digerendo, facci caso, ti viene un grandissimo sonno, ti viene dopo il pranzo, ti cala la palpa, perché il corpo dice, rest and digest, vuol dire riposare e digerire, non mi muovo perché sto digerendo. Allora, questo stress cronico ha fatto sì che il nostro intestino potrebbe diventare poroso e quando è poroso, la tight juncture perde l'integrità e comincia ad avere porosità dove le nostre sentinelle del sistema immunitario non ha il tempo specifico a dedicare, a limitare o modulare l'assunzione di nutrienti, ma non solo nutrienti, ma anche di patogeni e queste patogeni non li vogliamo mai nel nostro corpo perché un patogeno ovviamente potrebbe essere comunque il patogeno può essere qualcosa che infiamma il corpo, crea infiammazione e crea un picco di cortisolo che rallenta ulteriormente il nostro metabolismo e cominciamo a vedere che ci sono proprio problemi di oggi come oggi, obesità, resistenza all'insulina, tante intolleranze al cibo, intolleranze, allergie e gonfiore, vediamo la persona assai più gonfio, almeno io, assai più gonfio oggi in Italia che 30 anni fa quando sono arrivate, eravate tutti magri diciamo 30 anni fa, adesso vedo tantissimo problema di sovrappeso in Italia, molto legato secondo me al proprio questo problema delle infiammazioni croniche che potrebbe interagire su questa infiammazione nel corpo. Allora, questo è molto interessante perché questo è proprio uno studio scientifico che ha utilizzato la florenzina che è il principio attivo della mele slim e hanno visto che dando a questi topolini che erano obesi la florenzina, non solo che ha migliorato i loro dispiosi della flora batterica, sono diventati magri, perché limitare e modulare l'assorbimento dei nutrienti, è quello che ci permette di dire il Ministero della Salute su florenzina o sulla mele, aiuta non solo a limitare magari l'assorbimento dello zucchero o dei nutrienti a livello intestinale, ci aiuta il dispiosi perché si è visto che la florenzina stimola la proliferazione di un probiotico chiamato akarmansia e questo ci ha fatto capire che l'akarmansia comincia a reintegrare l'integrità della parete intestinale, migliorando, limitando, modellando il transito dei nostri nutrienti che permette ai sentinelli del nostro sistema immunitario di avere il tempo per dialogare con i neuroni del cervello, la facciamo entrare, sono come dei buttafuori alla festa, loro dicono no, tu entri, tu non entri, perché proteggere la salute del suo microbioma è di fondamentale importanza per del benessere. Alcune ricerche hanno dimostrato che i batteri intestinali, soprattutto quelli appartenenti all'actobacillia bifido batteri, possono influenzare con il comportamento sociale, l'ansia, lo stress e gli stati depressivi. Una predominanza di organismi non sani all'interno dell'intestino può dare origine alle intolleranze alimentari, celiachia, sindrome di colon irritabili, depressione, aumento di peso e tutta una serie di altri problemi. E stiamo peggiorando la salute del nostro microbioma. Negli ultimi vent'anni si è registrato un'allarmante impennata dal tasso di crescita di molte malattie influenzate dai fattori sia genetici sia ambientali. La celiachia, per esempio, solo dieci anni fa ha una malattia rara e personalmente non avevo mai incontrato nessuno con l'intolleranza al glutine 30 anni fa. Quali sono le cause? Gli antibiotici sono in parte responsabili, ma lo sono anche l'allenamento intensivo, gli organismi geneticamente modificata, la sovrafertilizzazione, i rifiuti tossici nell'acqua, l'ansia di produrre o di guadagnare ci ha fatto abbandonare la rete via. Ci siamo troppo stressato, abbiamo smesso di mangiare prodotti coltivati in casa e di vivere secondo i ritmi delle stagioni, quelli dettagliati dalla luce, lo sapete che sono fissate con ritmi circadiani. Mammela Slim, noterete che cosa succede? Questo non solo ci aiuta con il nostro microbioma, ma Mammela Slim dà notevolmente un risultato a livello della pancia, perché questo accumulo di adipe e liquido intorno al nostro ciambella, se vogliamo intenderci o GAG, sono gambe, abdominali e glutei, legato ad un'eccessiva infiammazione nel corpo, spesso volentieri causato da una produzione eccessiva di cortisolo. Il cortisolo come il cortisone fa ritenere liquidi e depositare adipe. Chiunque che deve fare un ciclo di cortisone sa che questo è il rischio, diciamo la conseguenza spesso è prendere peso e difficoltà di mandarla via. Mammela Slim come potete notare aiutate queste persone nella zona proprio specifica della zona GAG a migliorare questa qualità o diciamo qualità metabolica se vogliamo dire, ma stiamo anche aiutando i body burden, perché aiutiamo proprio a depurare il corpo e l'ambiente, riducendo tossine nel proprio ambiente, riducendo alimenti in plastica, riducendo le pentole antidotterenti di vecchia generazione, eliminare muffe, usare prodotti bio e non cucinare con microonde la plastica. Cioè andiamo a rivedere come ridurre tutto questo carico nel nostro corpo, un carico di tossine, un carico di infiammazione, un carico di quelle che non dovrebbe essere dentro il nostro microcircolo o flusso sanguigno. Così utilizzando un prodotto come Mela Slim, anzi possiamo aiutare a proteggere questo intestino, ritornando a un intestino poroso, a avere una vera e propria protezione sui tight juncture, grazie alla florenzina che ci aiuta a stimolare la proliferazione dell'accarmanzia, che dà tempo al nostro intestino, eccoci qua, a regolare l'intransito intestinale, perché è stitico o che va troppo spesso in bagno, e modulare e limitare l'assorbimento dei nutrienti, perché questo è molto importante, limitare, modulare. Infatti nel vecchio tempo si dice, una Mela al giorno togli il medico d'intorno. Adesso si potrebbe arrivare per la logica dicendo, proteggendo questo microbioma, proteggendo l'intestino, limitando e modulando le dispiosi e aiutando il corpo a avere il tempo necessario per decidere che cosa entra dal tubo digerente dentro il nostro flusso sanguigno per il benessere, può sicuramente coaduare o aiutare o sostenere la nostra salute. Così, Mela Slim è un prodotto straordinario per il microbioma, straordinario per ridurre ansia, stress, farci dormire meglio, ci aiuta a ridurre l'infiammazione nel corpo, ergo aiutiamo una riduzione eccessiva del cortisolo, che è inversamente correlato alla produzione della nostra tiroide, la TSH, che è l'ormone che stimola la tiroide, aumentando e sostenendo il metabolismo, a questo punto cominciamo a rivedere un equilibrio nel corpo tra massa magra e massa grassa, cominciamo a vedere una regolarità a livello intestinale per andare in bagno con più regolarità e cominciamo a vedere anche il peso che ci si trova, il suo equilibrio, una cosa ovviamente che va abbinato al movimento, abbinato a una sana nutrizione, abbinato a un sano sonno, lo dico sempre, ma se Mela Slim davvero è un prodotto eccellente da utilizzare se vogliamo ritornare in forma. Come prendiamo il nostro Mela Slim? Lo prendiamo a stomaco vuoto perché vogliamo che arriva più integro possibile, più velocemente possibile dentro il nostro viscere, così passa, supera la barriera dello stomaco per entrare nell'intestino e al colon con più velocità possibile, ma siccome non ha nessuna azione né gastro irritante né agitante per il sistema cardiovascolare, lo puoi prendere la mattina, prima della prima colazione o addirittura anche prima di andare a letto. Però la cosa importante è stomaco vuoto, così passa più velocemente là dove serve per stimolare la proliferazione del nostro Ackermansia, che tra l'altro è un probiotico che è anaerobico, così io non ti posso dare Ackermansia perché morirebbe in contatto con l'ossigeno. Invece Mela Slim, titolato a Florenzina, al 50% stimola lui la proliferazione di Ackermansia, che ci aiuta a limitare e a modulare al livello transito-intestinale e l'issorbimento dei nutrienti, aiutandoci con il microbioma e aiutandoci con il nostro benessere. Vi aspetto alla prossima webinar insieme, se vi è piaciuto questo webinar mi raccomando condividalo con i vostri amici, dammi un like e seguimi sempre qui sui miei social per capire il massimo di quello che possiamo fare per il nostro benessere. Baccio dalla G.